Anzi siamo qui su Fortnite doveva simulare la lobby e iniziamo la partita in singolo Vabbè è iniziato il caricamento Raga il caricamento è finito Siamo qui 98 giocatori Stiamo Lascio stare Andiamo in un posto abbastanza isolato Tipo qui dai In mezzo a nulla però va bene Lo scuolato ringrazia l'autista del bus Non dico il bus, l'autobus Lascio stare Che non è una cosa importante Ha detto che era 8 player 1 che serve per fare la missione del pass battaglia Ma è un gioco del pass battaglia quindi è inutile Vabbè lo faccio per gesto Pensiamo alla partita che è meglio Ma è una volta detto che è meglio non lo so Allora Che c'è scritto qui? Non lo so Non importa Facciamoci lo scudo qui Ho il lama Davanti sono sei Che bello Cos'è questo? Fucile d'assalto? Dai prendiamocelo Pure se fa pena Aspetta Quando ho detto Veniamo a fucile d'assalto Ho detto di nuovo Veniamo a fucile d'assalto che è meglio Non mi dico che l'ho ridetto Ma non ci credo Può darsi di sì Perché ormai Metto di fronte a tutte le parole Vabbè facciamo materiale Mi servono Per fare un fortino Di fortemente Ok Anzi Mettiamo sotto questo video Descrizione Hashtag che è meglio Qui c'è hashtag o hashtag Boh Non ho ancora capito queste cose Prima qua c'era un glitch Che diceva che Cerca qui Penutile Ma io non sono molto informato Su questo gioco Nel senso degli eventi Soltanto quell'evento del mostro Lì che ha fatto un video Vedo te lo vedete Non si era capito proprio niente Un altro scudo Secondo me è stato girato Alla indietro Evo il suo presentimento proprio Oppure no Non lo so Oppure no Non lo so Ok Questa è una crepes in cielo Questa è una crepes in cielo Questa è stata buona Ma adesso Ampiamo questi due camion Che in genere l'altro Non abbiamo quest'altro Allora No Sì Ho preso quello che mi servito Ok Quello mi serve Non voglio usare troppo i materiali Questa è la cosa che mi fa Però Sono un pegnolo del cazzo Non mi piace Non mi piace Ha messo fuori safe Tutto apposta Tutto apposta Ci manca stando che andavo nella tempesta Non mi accoggeva nemmeno Dai siamo i materiali Dai ci sono alberi là Ok Ampiamolo Ok Non tutto perché È un metodo Forse E' fruttivo Ma poi non ho capito ancora Quanto più cadere Come meteorite All'io È bello È un ottimo Punto Segnala Questa Vicino a mia ragazzina Non mi fido Comunque sta Lì Ho fatto 3 kg Sempre in un altro video Ho fatto vedere Ok Quest'altro Usiamo sempre il metodo furtivo Standovi a bere più piccoli Non Credo che Serve Faccio qualcosa Poverola Che ci vedano Poi Ma quello là Credo che È abbastanza grande Sì Però No come quello Lo potrei Lo potrei pure distruggere Però Beh Però No a me Non fa niente Insomma Stare Sono meteorite Se siete bravi Andateci Però Se siete bravi Come a me Me sono accendate Che per me È difficile Qua che c'è stato GTA Oh Oddio Va bene Oh Grazie Grazie 1250 di vita 1250 di vita È Grazie Ma non mi dire Che Che l'ho preso Solo io Aspetta Calmiamoci Usiamolo come Esca Ah Nel frattempo Comunque È arrivato Player 1 È online Vabbè Dopo ci faccio Un video Prego Lui Ho detto Vuoi giocare Aspettate un secondo Ragazzi Sono tornato Ho detto Ok salutami Vabbè Ho detto Pure dopo Quindi adesso Ricominciamo A fare La partita Vediamo Usiamo Un po' Di mattone Mattone Si dice Spari Meglio Coprirsi Le spalle Penso Meglio Scendere Qua giù Uno è stato Limiato Con un fusero No Questo qua È meglio Ma Questo come Tormentone Che è meglio Aspetta Ma dove Sta andando No 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 Scappiamo Che è meglio Questo Sto pure Rompendo Un po' Per cavolo Un po' 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 Qua è una solità di safe, veloce, ci ha servito come metodo di sfuga però, non come arma di distruzione di massa. Facciamo un po' di materiali, sentiamo e via, dove sto, no vabbè, come ho fatto, è anzi facile però, cosa devo fare, un robot, mi spesso mi avete un'idea, lo dò di distruzione, così li attiro, io mi andavo verso di là, anzi meglio no, scendiamo qua, è meglio, è meglio, no, me ne avevo già visto, è stata una mezza cavolata, no, le persone si stanno, io mi metto qua, entro, che è meglio, lo dò, non, qui, no, le persone si stanno, no, mi metto qua, un po' di destino, ho qui, un po' di destino, inizio, Ah, fatto, morto, buon Dio no, cazzo vai, sono molto brava a evitare, cazzo da, sono morto però con una chiera, l'ho fatto dai, facciamo un'altra un'altra non me la facciamo, assorbi, proviamoci dai, dai, fatta squadra adesso, vabbè, riempire, riempire, non so che signora, f***a qualcuno me lo può dire nei commenti, non so, forse è tua vita bella, che significa, non so, armi, armi ovunque, senza di liberare a liberare lo spazio per le armi, ma proviamoci, adesso vogliamo andare a finire, uh, non tengo fano però, ma buttiamoci a, dando le tali dai, andiamo a dando le tali, che è meglio, cerchiamo di andare nelle piccole case, dice delle case piccole, nelle piccole case, anzi ho detto bene, forse dovrei ripetere la grammatica, vai, rompi, rompi, accogli in fretta, scappa subito da qui, scappa adesso, mi sono fatti vedere, non mi ha fatto una mezza ingolata, una mezza, visto si che mi piaceva, accogliamo tutto quello che è vero, cioè che troviamo, una mezza, guarda dire, mettiamo questa, mettiamo questa, mettiamo questa, uno ha fatto una cosa si vede qui, questo è meglio che non ho accanto, questo pure è meglio no, non possiamo vedere la mangiata, cazzo, lì, insista qualcuno, tengo paura perché non sono ancora bene vergoggiato, qualcosa ce l'ho, però non sono ancora bene vergoggiato, secondo me, poi, non lo so, è il diavolo, queste cose, sistemiamoci un attimo l'inventario, fatto, adesso è meglio un silo, no, che già per portare mano così, però credevo, qua sono due armi e domatica, quindi, o poi sta qualcuno, non si sa mai, è un bel era proprio grande, oh, belle è buono, no, sono messo qua, è fail che ho fatto, le granate si ci servono, me, così, che è meglio, no, qualcuno ci ha disegnato, ma è lo visto in genere dentro questo punto, se si deve fare qualcosa, non lo so, non ce l'ho visto in un'altra parte io, ma non lo so, sta costruendo qualcuno lì, o non è così la casa, non è così la il giro del mondo, però ho trovato questo, devo pregambiare col razzo nelle armi, devo mettere più definita, ottengo qualcosa di meglio io, se nemmo quale schiavo, ma proviamoci lo stesso, questo è un buon termine, città, pinnacoli, perché là sono bravo, però dopo vado all'anno e sto a fare un cavolo, è colpa mia, se poi succede, da sopra città una pistola fiscale, vero? no, oppure si, andiamoci, ah è vero, ecco perché, no, non c'è a dire, con paura e mi cerchinano, vabbè, due minuti e cinquantasei ce la faccio, vedo che stavo per morire, che paura, e qua? oh come stiamo? granate, due granate non le so usare, meglio non le schiare, noll, noll, bene, ok, mi va bene tutta, è altra, non mi fa più comunque la kill l'ho fatta lo stesso, non so come però l'ho fatta lo stesso, però avevo pure poca vita, vabbè, secondo me le altre modalità le facciamo nel video con eroto player 1, comunque questo video è tutto, e al prossimo video c'è quello da con eroto player 1 e lo ripeto un'altra volta, ciao! ciao!